E dunque siamo alla velocità dello stile libero, sui 50 metri si gareggia da qui in poi per categoria, in acqua con le ragazze, batteria 1, presentiamo a batteria 2, dalla 1 alla 7, Sofia Montresor, Amira Mantane, Matnane, alla 3, Anna Zampieri, 4, Greta Miotto, 5, Tamara Vlatkovic, 6, Sara Ortolan, 7, Madalina Sili. Anna Piccolo intanto, 33,67.